Allora io intanto come vi stavo dicendo qua è cresciuto un botto di roba Jumper T14 io confermo per chi avesse provato il Gimbal R1090 sono veramente fantastici ottimo rapporto qualità prezzo radio da 114-120 euro diciamo che esteticamente come una boxer barra mambo non ci piove qui ragazzi come in pugnatura e dimensioni mamma mia qui facciamo qualche bucarello qui in nonchalance ok facciamo un po' di trippy spin e dopo vi dico un po' di feedback eccola qui ragazzi Jumper T14 oggi andiamo a vedere l'unboxing e le prime impressioni di questa nuova radio di casa Jumper a mio avviso molto interessante soprattutto per l'ottimo rapporto qualità prezzo detto questo iniziamo qui abbiamo già pronte anche le altre due radio con cui andremo a confrontare questa Jumper T14 iniziamo pure allora partiamo subito con il contenuto della scatola abbiamo mantenuto il case a mio avviso molto bello e molto comodo per chi appunto lo utilizza come sulla Jumper T20 Gemini allora andiamo a vedere il suo contenuto ok io ovviamente l'ho già utilizzata l'ho rimessa dentro la sua custodia giusto per farvi vedere come vi arriva allora abbiamo qui il laccetto per tenere la radio al collo abbiamo il cavetto per ricaricare la radio e per collegare la radio al simulatore mollettine per chi le volesse cambiare per poi passare alla radio andiamo ad aprirla qui abbiamo due proteggi gimbal e finalmente la nostra Jumper T14 allora andiamola a vedere un po' più da vicino ok andiamo a vedere un po' più da vicino la radio allora questa è la versione più completa con i gimbal RDC A90 i gimbal migliori in CNC rispetto agli All e l'RS 2.4 con modulo interno da 1 watt abbiamo presenti gli switch come sulla Boxer o la Mambo uno switch a due posizioni uno switch a tre posizioni switch a tre posizioni switch a due posizioni potenziometri abbiamo anche due pulsanti a pressione dove uno rimane bloccato mentre l'altro invece ritorna su da solo in caso non ci piacessero i pulsanti abbiamo anche la possibilità di aggiungerci questi Jumper mi ha inviato anche altri due switch in caso appunto non ci piacciono i pulsanti e semplicemente dovremo montare vedete qui abbiamo sia la placchettina e abbiamo anche lo switch da mettere in caso preferiamo qua in alto abbiamo il type C per ricaricare e collegare la radio al simulatore qui abbiamo tutti i vari pulsanti per muoversi nei menu che vediamo fra poco abbiamo la rotellina molto fluida lo schermo OLED veramente bello questo schermo installato da Jumper i trim e abbiamo il pulsante di accensione andiamo a vedere nella parte posteriore ah qui ovviamente abbiamo l'antenna cosa non scontata che si può abbassare quindi rende la radio più compatta e nella parte interna scusate nella parte posteriore abbiamo la possibilità di installare moduli tipo TBS micro con un semplice adattatore possiamo mettere anche il modulo nano e molto meglio a mio avviso della Jumper T20 dove dovevamo utilizzare il loro adattatore o comunque non è così veloce l'installazione di un modulo esterno sempre case per le 21007 io in questo momento sto utilizzando due 18650 dove comunque durano parecchio con le 21007 abbiamo un'autonomia veramente infinita allora apriamo un attimo il case una cosa molto comoda che ho visto allora al di là della batteria che andremo a metterci qua dentro ok vedete la batteria per la seconda batteria tampone che è vero che si cambia dopo tantissimo tempo però nel momento in cui la dobbiamo cambiare l'abbiamo subito lì e questa cosa a mio avviso è veramente comoda magari a qualcuno di voi non è neanche ancora successo di doverla cambiare però sappiate che smontare una radio per cambiare la batteria tampone sicuramente non è una cosa comoda e componiamola e qui abbiamo nella parte posteriore la maniglietta e maniglietta in plastica che comunque a mio avviso risulta essere comoda per tenere la radio così anche se comunque anche la radio sta in piedi da sola allora finalmente andiamo a vedere un piccolo confronto con la boxer penso che a qualcuno potrebbe interessare allora togliamo lo zoom che così dovrebbe bastare e andiamo a prendere la boxer la prima cosa che vi dico perché mentre stavo volando ho provato ad alternare boxer e jumper t14 per capire un po' le differenze diciamo che al di là dei gimbal che comunque sono entrambi ottimi come ho già detto gli ag01 sono penso i gimbal più belli che ho provato però questi rdc 90 mi trovo veramente bene soprattutto con l'impugnatura della gemini questa secondo me è la migliore impugnatura secondo me per chi vola almeno quei pollici poi è vero che queste sono tutte cose mie personali rimanendo sulla jumper t14 allora la cosa che ho subito notato dopo aver alternato la boxer con la jumper t14 è appunto l'impugnatura ci sono queste due smussature allora sulla boxer comunque risulta essere veramente ottima l'impugnatura però queste due smussature qui ci permettono di avere un'impugnatura ancora più avvolgente diciamo che sono dettagli che comunque giusto voglio riportarvi perché sono simili però qualcosa cambia lo schermo OLED qui risulta essere veramente ottimo è vero che poi almeno per me lo schermo vuol dire poco perché lo guardo giusto per cambiare le impostazioni una volta ogni tanto però vi posso dire che questo al sole come le luminosità fa paura e anche se comunque anche con lo schermo della boxer si vede bene qualità generale se devo valutare un po' gli switch i potenziometri, i vari pulsanti, i rotellini e quant'altro ovviamente qui abbiamo un qualcosa di più premium stiamo parlando in questo caso in questa configurazione di una radio che arriva quasi a 300 euro contro una radio da 120-125 euro in base all'offerta questa radio viene 125 euro non dobbiamo cambiarci assolutamente niente almeno nel mio caso io mi trovo molto bene con questi gimbal cosa che vi ho già detto anche con la T20 che poi fra un po' tirerò fuori e niente mi sarei aspettato sinceramente molto meno in questa fascia di prezzo e secondo me risulta essere un'ottima radio per quanto riguarda il resto diciamo che è un po' più altina se vogliamo trovare un po' le differenze la Jumper T14 è un po' più alta della Boxer e vabbè la Boxer come conosciamo ormai Radio Master ha la doppia uscita Type-C a mio avviso molto comoda perché ci permette di tenere separato il simulatore qui dalla ricarica a mio avviso comoda questa cosa anche se magari qualcuno non interessa allora qui ad esempio l'ho dovuto aggiungere io a qualcuno poteva trovare anche più comoda la maniglietta in stoffa io ho preso la maniglietta in CNC perché molte volte mi piace tenere la radio così e in questo caso la Jumper T14 ha già la maniglietta anche se in plastica per tenere la radio in questo modo niente detto questo andiamo a vedere anche la T20 allora anche con la T20 sinceramente mi aspettavo molto meno questa è la T20 Gemini e devo dire che sono due radio che mi hanno sicuramente colpito soprattutto la T20 vedete ogni radio ha un suo perché la T20 ad esempio l'unico difetto che avevo trovato è che se devo mettere un modulo esterno visto che comunque qualcuno lo utilizza ancora deve usare l'adattatore e comunque non è una cosa così secondo me immediata rispetto comunque alla T14 una Boxer, una Mambo che abbiamo già gli slot dedicati comunque gli slot standard diciamo che ci permettono in un secondo di poter utilizzare i moduli esterni niente ragazzi andiamo un attimo a vedere e ad accendere la Jumper T14 avviciniamo un attimo lo schermo ok ragazzi andiamo ad accendere la Jumper T14 giusto per vedere un po' come muoverci nel menu volevo farvi vedere anche la luminosità dello schermo cassettine buone allora trotto lo che è giù gli switch perfetto vedete abbiamo anche i due leddini qua che sono estetici ovviamente però giusto per vedere un po' tutte le differenze rispetto a una Boxer e una Mambo e lo schermo vi stavo dicendo io qui ho l'umidicità bassissima e adesso dalla telecamera non so se si riesce a vedere la differenza andando nelle impostazioni della radio tenendo premuto il tasto in alto a sinistra spostandoci sul menu con il secondo tasto centrale andiamo nelle impostazioni della luminosità adesso vi faccio vedere luminosità al minimo contro luminosità massima al sole veramente è uno spettacolo forse con la luce spenta si vede un po' meglio allora mettiamo luminosità al minimo ok allora così siamo al minimo vediamo se si riesce a vedere metto al massimo che ha un valore di 256 non so se si riesce a vedere che le scritte sono diventate proprio belle luminose anzi ancora non siamo al massimo 254 vedete lo schermo è uno spettacolo io lo tengo a 48 contro il 254 che è al massimo vediamo se si riesce a vedere purtroppo dalla telecamera è difficile vedete che un po' si è abbassato però vi posso assicurare che dal vero questo schermo risulta essere veramente ottimo ok anzi rimettiamolo come prima perfetto stavo dicendo per tornare indietro abbiamo il pulsante dedicato l'ultimo questo qui torniamo indietro ok per entrare all'interno del modello invece di tenere premuto qualche secondo questo pulsante lo premiamo in modo veloce vedete qui io ho due modelli tasto per spostarci nelle varie schermate del menu questo e possiamo come qualsiasi sistema boxer sistema i gtx presente sulla boxer su altre radio andiamo a impostare un po' tutti i nostri valori su appunto tutorial di come creare il modello impostare le voci quant'altro l'ho fatto perché tanto i menu sono tutti uguali se avete qualche domanda fatemela nei commenti qua sotto e diciamo che questo è quanto per quanto riguarda un po' la radio accesa il sistema operativo arrivando alle prime impressioni dopo averla provata per un pochino questa radio devo dire che in questa fascia di prezzo 120-125 euro questa radio risulta essere ottima sia per i gimbal con cui vi arriva per la maneggevolezza a mio avviso questa con la boxer con la mambo risultano essere fra i migliori compromessi come portabilità e comunque anche maneggevolezza anche se ad esempio come ho detto questa che potrebbe piacere o non piacere come maneggevolezza è veramente questo o proprio per chi vuole a quei pollici o proprio un feedback ottimo come impugnatura però diciamo che guardando in questo caso specifico la jamper T14 abbiamo prezzo, maneggevolezza comunque ottimi gimbal la radio risulta essere comunque in questa fascia di prezzo buona come manifattura la rotellina è veramente fluida, i pulsanti comunque si cliccano bene, gli switch pure i potenziometri magari risultano essere un po' più cheap però questi sono dettagli antenna comunque ripiegabile che rende la radio ancora più compatta nel complesso io mi sento assolutamente di consigliare questa jamper T14 ovviamente in base al vostro budget, in base un po' alle vostre esigenze detto questo io vi lascio nella descrizione dove acquistare la radio e vi lascio ad un volato niente di particolare è giusto dopo aver alternato un po' la boxer insieme alla jamper T14 giusto per condividervi un feeling di come appunto mi sono trovato con questa T14 spero che il video possa essere utile a chi appunto ha docchiato questa radio e se vi fa piacere mettete anche un like al video a me fa sempre piacere e noi ci vediamo alla prossima, ciao! allora io intanto come vi stavo dicendo qua è cresciuto un botto di roba jamper T14 io confermo per chi avesse provato il gimbal R1090 sono veramente fantastici ottimo rapporto qualità prezzo radio da 114-120 euro diciamo che allora esteticamente come una boxer barra mambo non ci piove qui ragazzi come impugnatura dimensioni mamma mia qui facciamo qualche bucarello qui in nonchalance ok facciamo un po' di trippy spin dopo vi dico un po' di feelback ok ok andiamo in questo comparto di qua che è sempre carino allora il feedback in pugnatura stessa cosa dalla boxer qua di là diciamo che è un po' un risparmio diciamo sta radio che comunque secondo me è fatta veramente bene allora un attimo è LRS 1 Watt oh qui c'è sempre un po' di laghettone mamma mia però volevo farlo questo nuovo bucarello allora devo infilarmi lì prima ho fatto una roba assurda che non so nemmeno io come ho fatto ho fatto una roba ehi la andiamo un po' di qua allora mi sembra più leggera comunque come radio rispetto alla boxer ad esempio forse gli A01 pesano questi sono più leggeri qui ho una batteria un po' più piccola rispetto alla boxer ok perfetto qui c'è un altro bucarello stretto ok e niente questo diciamo che sono terro le batterie per la recensione insomma diciamo è giusto per provare un attimo la la radiolina anche qua è cresciuto un botto di roba qui c'è qualche filo in più non mi ricordavo di tutta sta roba ok qui bello 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 allora vediamo se riusciamo a imbucare anche questo bucarello qua ok non abbiamo perso il feeling e qui troppo un po' di prepotenza allora vediamo un attimo questa qua tranquillino se riusciamo a farlo ehi ehi la ehi la non so che cosa ho fatto mamma mia sto finando la batteria devo rientrare mamma mia mamma mia mamma mia grazie a tutti